Si chiama Emilia Trema, genitori anche abruzzesi, e il veicolo solare con cui l'associazione pescarese Futura e l'emiliana Idea Solare tenteranno di vincere il Solar World Challenge 2013, che come tradizione si terrà in Australia. Un percorso durissimo, 3.000 chilometri, attraverso l'outback australiano, tagliando verticalmente il paese dei canguri da Darwin fino ad Idelaide. Il team italiano sarà uno dei 43 che prenderanno parte all'evento, che a partire dal 6 ottobre vedrà sfidarsi veicoli alimentati esclusivamente ad energia solare. Emilia Tre è nata grazie alla passione e all'esperienza dell'associazione Futura, che dal 1996 partecipe a questo tipo di manifestazioni. Tante sono state le difficoltà, soprattutto di carattere economico, ha raccontato Giuseppe Coia, team manager di Emilia Tre, che partirà alla volta dell'Australia assieme all'altro pescarese, Remo D'Antonio, responsabile della strategia di gara. Emilia Tre ha richiesto tantissime ore di lavoro e collaudo sulla pista dell'autodromo di Modena, ma ora è pronta per la sfida, naturalmente ad emissioni zero.